L'indagine non è ancora chiusa perché si attendono ancora altri esiti anche di natura tecnica, dall'esito del DNA all'esame sui mezzi in sequestro per eventuali riscontri di tracce di materiale organico e quant'altro. Indubbiamente il quadro che al momento è a nostra disposizione è un quadro già ben dettagliato, quindi non dovrebbero esserci ulteriori sviluppi imprevisti al momento, salvo sorprese nel corso dei giorni a venire. Ci sono gli elementi per presupporre un giudizio immediato, cioè entro sei mesi? Il giudizio immediato per persone in stato di custodia cautelare può essere richiesto entro sei mesi dall'esecuzione del provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale. È un lasso di tempo ampio che in questo caso potrebbe anche essere sufficiente per il compimento delle indagini. Sull'esame del DNA ci sono novità? Non ancora, non dovrebbero essere tempi molto lunghi, però al momento non si sa ancora nulla.